Terminato l'allenamento in Casa Crotone, Augusto Scarbò, reduce dal gol contro la SPAL, pronta a rispondere alle domande dei giornalisti. Si va a Cremona, una squadra che è in salute, che sta bene, però servirà la prestazione che avete messo in campo contro la SPAL, più la cattiveria agonistica, specialmente la concretezza sottoporta? Sì, noi secondo me anche dobbiamo andare lì a Cremona con la rabbia, perché secondo me queste ultime due partite stiamo giocando bene, però ci manca qualcosa, i punti, quindi dobbiamo essere più cattivi, più concreti per ottenere questo obiettivo che è i tre punti. Carbò, le prestazioni non rendono giustizia al Crotone per quanto riguarda i punti conquistati. C'è una settimana che sarà tra virgolette terribile, si va prima a Cremona, poi c'è la Coppa Italia contro l'Udinese e poi si torna alle giustizie contro il Pordenone. Ma parliamo della partita con la Cremonese. Avete messo in campo grinta, cattiveria, bel gioco, però purtroppo non sta succedendo niente per quanto riguarda le vittorie. Che cosa si deve fare di più perché il Crotone possa veramente concretizzare quanto fa in campo? Pensiamo, come hai detto, partita per partita, adesso andiamo a Cremona. Secondo me manca anche la fortuna, perché si vede che la squadra lotta, cerca di vincere come contro la spalla. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto la palla a noi, però in questo momento serve anche la fortuna. Oltre la fortuna, a Cremona cosa dovrete mettere di più? Perché se non è bastato giocare bene con la spalla, cosa servirà mettere in campo ancora di più, visto che si va in casa di una Cremonese che sta andando forte? Serve, oltre alla fortuna, serve anche l'attenzione, fare più attenzione su tutto quello che facciamo perché anche si vede i gol che prendiamo, magari si mettiamo un po' più di attenzione anche in attacco, un po' più di attenzione e i gol li facciamo. Secondo me serve anche l'attenzione e essere anche più sporco, però cercare di vincere le partite, perché non serve essere solo belli. A volte, a certi momenti della partita, dobbiamo essere più sporchi, più furbi, più attenti per vincere. Carbo, sei il giocatore più maltrattato durante la partita, sei seguito, circondato, ti buttano a terra, però tu riesci sempre a rimanere in gioco. E il Carbo che aspettavamo tutti e che ci sarà dalle prossime partite in poi? Grazie a Dio che è arrivato anche il gol, perché si serve anche per prendere un po' più di fiducia. Sto cercando di migliorare giorno per giorno, ogni allenamento, cerco di mettere massimo impegno anche quando entro al campo. Secondo me ci vuole continuità, secondo me ci vuole anche fortuna, come diciamo, perché a volte provi di fare tutto, di fare assist, di aiutare la squadra, però quando le cose non girano poi andiamo, magari tutti male, però questo momento serve i tre punti che altro.